Siamo qua prima della partita tra Tottenham e Queen's Park Rangers, pre-partita siamo qua con il capitano Francesco Portera. Francesco Portera come proponi? Una partita difficile come sempre. Sono il difensore della squadra. Raitano? Sì, Raitano il difensore. Allora, la gara come si prospetta questa sera? Non lo so, noi abbiamo tre punti attualmente e questa squadra ha perso la prima parte, zero punti. Sì, ha perso con l'Everton abbastanza... È vero, comunque il pallone è rotondo, quindi giusto, il pallone è rotondo, non può succedere il tutto, io ho finito alle nove e mezza di lavorare su New Sound. Ma se voi se non si domanda una cosa, quest'anno punterete al titolo? Guarda, l'anno scorso siamo usciti come i coglioni, scusami, come i cocones spagnoli, quartieri di finale e tu sai che meritavamo gli arrivari settimane, per cui noi ci proviamo. Ok, buona partita.